E questa era tutta per Chiara che è rimasta qui a scontarci, guardala. Ciao Chiara, ci ha mandato un bacino, che belle cose. E non potrebbe essere diversamente Gardaland, assolutamente. Il parco numero uno in Italia, qui ha organizzato per tutti noi questa bella Oktoberfest, qui insieme con buona birra, con ottima cucina, ma soprattutto con voi qui con noi a fare questa bella festa insieme. Andiamo nella tradizione della baviera con Alte Kamakaden. Ma vogliamo sentire i nostri tromboni qui che sfoggiano tutta la loro musicalità eccezionale, incredibile. Ricordiamo intanto, se volete mandarci qualche bella foto, mandate via Facebook e cercate Capuziner VR Band, con la K iniziale, una più una Z, mandateci foto materiale che lo pubblicheremo sui nostri social ufficiali. Quindi andiamo con Alte Kamakaden, con Capuziner VR Band. Grazie a tutti. Grazie a tutti.